A presto! passa in mezzo ai due sassi è stata fatta a posta Cori, vieni bravo, va bene è stata fatta a posta la stagione ora, già spostata un'altra è stata fatta a noi perché se noi un cagino per il tuo punto ne sapevo se era solo accruciato sarebbe un'ora basta, va bene Vito tanto l'ho risposta dentro ancora l'ha già spostata un'altra volta non si è andato i cagliati ma là non andano dove c'è la pianta taglia fuori è inutile andare là tanto arriviamo là e poi giriamo facciamo il pezzo vasto esatto non si è andato non si è andato non la rivelti da scena firma firma no ma sono fuggito mi sono appoggiato devi firmare mi sono appoggiato ma è il mio patore ma è il mio patore mi ha fatto tutto però e l'esercizio